allora ragazzi ciao e benvenuti su xbox zone questo è un video gemello al video che ho registrato per spiegarvi come impostare la console come xbox home e ovviare a tutti i check digitali delle chiavi dei giochi che avete acquistato in digitale in modo di avviarli anche se siete scollegati dai server live in questo praticamente video gemello spiegherò un una modalità un sistema che ho accennato nell'altro video ovvero la condivisione dell' xbox home con un altro utente di vostra fiducia per dimezzare completamente i costi di i costi dei contenuti digitali allora praticamente se avete seguito l'altro video già avete capito se non avete seguito vi spiego in questa dal menu impostazioni modalità scusate personalizzazione dovete andare all'opzione la mia xbox home e qui imposta come xbox home la vostra macchina in questo modo voi trasferite tutte le chiavi digitali nella vostra macchina potete usufruire di contenuti tutti i contenuti digitali salvati sul vostro hard disk anche se non siete collegati ai server xbox questo ovviamente vale per i giochi che avete acquistato e ragazzi è importante i giochi game pass e cloud necessitano per forza un check online lì non si scappa il game pass ovviamente se i server live sono bloccati per qualsiasi motivo non funzionerà solo per i giochi che avete acquistato e salvato sulla vostra console che sono vostri per sempre che sono legittimamente vostri e salvate anche le chiavi di acquisto sulla vostra console quindi non c'è bisogno di nessun check solo per i giochi che acquistate non per i contenuti game pass questo mi sono dimenticato di un altro video lo dico qui perché immagino già me lo farete notare nei commenti giustissimo comunque questa è una modalità per dimezzare i costi e la condivisione dell' xbox home come funziona se voi volete condividere con un vostro compagno fidato la vostra xbox e il vostro account sostanzialmente voi dovete disattivare questa opzione non dovete impostare come xbox home la vostra dovete disattivarla questa opzione qui non deve risultare attiva disattivate non deve essere impostata come xbox home sul vostro account d'accordo voi andate nel vostro account e disattivate questa opzione a questo punto voi dovete chiedere e qui si entra un po nel nel grigio dovete chiedere i dati dell'account del vostro amico e dovete salvare l'account sulla vostra console come account secondario quindi dovete chiedere l'email e la password di questa persona e voi da parte vostra dovete dare a quella persona la vostra email e la vostra password di collegamento a xbox live quindi voi salverete l'account del vostro amico sulla vostra console come account secondario e lui farà altrettanto ok se ci siete mi state seguendo fin qui a questo punto dovete chiedere al vostro amico di collegarsi con il vostro account nella sua console quindi lui entrerà con le vostre credenziali dalla sua console e lui dovrà andare in personalizzazione e impostare la mia xbox home come xbox home con il vostro account sulla sua console e voi dovrete fare altrettanto con il suo account quindi voi vi collegate nella vostra console con l'account del vostro amico andate nella mia xbox home dal suo account e impostate come xbox home quindi che cosa avete fatto in sostanza avete invertito le vostre rispettive xbox home che cosa succede dopo questo questo sistema un po' arzigogolato succede che tutti i contenuti digitali del vostro compagno è il vostro in gergo diciamo proprio compagno sposarsi matrimonio tutti i contenuti digitali voi sarete legati a doppio filo con le vostre due console tutti i contenuti digitali del vostro compagno saranno avviabili sulla vostra console a condizione di essere collegati sempre a xbox live e il vostro compagno tutti i conti i vostri contenuti digitali saranno disponibili da parte da parte sua quindi voi condividerete tutti i suoi contenuti digitali e lui condividerà tutti i vostri contenuti digitali in buona sostanza ovviamente voi potrete continuare a utilizzare anche i vostri contenuti digitali alla condizione che saranno utilizzabili solo soltanto collegati xbox live mentre invece se voi utilizzate l'account del vostro amico allora quel punto potete potete anche utilizzare potete utilizzare i suoi contenuti digitali anche offline perché perché voi avete impostato come home dall'account del vostro compagno però ovviamente qui salta una problematica ovvero che voi volete utilizzare giustamente il vostro account nella vostra console non quella del vostro amico in modo di poter guadagnare obiettivi dai contenuti digitali del vostro amico con il vostro account e lui uguale quindi dovete collegarvi tenendo sempre attivo l'account quindi lo dovete tenere fisicamente nella console dovete cancellarlo l'account del vostro amico però vi scollegate da esso e vi collegate al vostro account d'accordo quel punto potrete utilizzare tutti i contenuti digitali del vostro compagno e lui altrettanto che cosa succede che se acquistate per esempio un gioco assassin's creed unity lo acquistate voi o lo acquista lui entrambi potrete usufruire di questo gioco quindi i costi sono dimezzati quello poi gli accordi li potete prendere tra di voi non è una cosa che riguarda questo video però voi potrete usufruire entrambi di un contenuto che solo una delle parti ha acquistato è una procedura regolare no non lo è perché questa procedura qui di condivisione non è pensata per condividere in realtà la home con un amico ma con un familiare o comunque una persona di estrema fiducia ma microsoft ovviamente non può mettersi a controllare se è il vostro parente che abita nel vostro appartamento con un'altra console che utilizza la condivisione o un parente che vive nel vostro palazzo o è una persona che vive a chilometri di distanza non fanno questo tipo di controlli quindi diventa tutto un po un calderone non è pensato per condividerlo con una persona che a chilometri di distanza che magari neanche conoscete ok quindi questa è un po l'area grigia del però si utilizza questa procedura da anni e non ci sono mai state ripercussioni quindi possiamo definirla una procedura sicura ovviamente i lati i lati negativi della cosa che ci vuole occorre estrema fiducia nell'altra persona perché voi state condividendo il vostro account con quella persona e la stessa cosa voi state condividendo il suo account con quella persona se fate così e utilizzate questo sistema combinato dovete ricordare appunto che se ci sono problemi xbox live voi potrete utilizzare offline soli contenuti del vostro compare salvati sulla vostra console e che voi potrete utilizzare solo utilizzando l'account del vostro compare non potrete utilizzare i vostri contenuti salvati sulla vostra console se i server live vanno offline perché avete fatto questa cosa combinata è per questo motivo che chi utilizza la condivisione sapeva benissimo che non sarebbero funzionati i loro contenuti online quando i server xbox hanno avuto il black out di 3 4 giorni lo sapevano già perché erano vincolati da questa procedura quindi se vuole utilizzate dovete sapere a cosa andate incontro a livello di conseguenze cioè che dei server live devono funzionare sempre bene se non sono problemi se non volete se volete evitare assolutamente questi tipi di problemi fate come nell'altro video attivate l'xbox home sulla vostra macchina siete da soli i prezzi non sono dimezzati ma potrete utilizzare sempre i vostri contenuti ripeto acquistati perché game pass necessita per forza di cose un check online ma tutti i vostri contenuti acquistate salvati sulla vostra console saranno sempre disponibili anche se andate a ritirarvi in piena campagna in montagna con la vostra console quindi io spero sia stato chiaro perché questo è un pochetto è un pochetto complicata questa cosa ultime considerazioni xbox zone consiglia questa procedura della condivisione sinceramente no no noi la spieghiamo a onor di conoscenza come l'altro video dei retail ma non la consigliamo perché microsoft sicuramente non è favorevole a questo tipo di procedura anche se non vorrà o nemmeno potrà fare dei controlli per stabilire se l'utente condiviso è un parente stretto o è una persona a chilometri di distanza non l'hanno mai fatto negli anni e non credo che inizieranno adesso comunque se volete stare in un environment di assoluta sicurezza questa procedura non ve lo può garantire perché comunque non è completamente autorizzata da microsoft quindi noi sapete che xbox zone consiglia solo procedure estremamente sicure e autorizzate se volete se non volete nessun tipo di problema al 101 per cento impostate la vostra console come home e lì potrete usufruire di tutti i vostri contenuti digitali acquistati legalmente e stipati nella vostra console ragazzi detto questo ci vediamo nel prossimo video iscrivetevi al canale e like e alla prossima ciao